Pensavamo che ci fosse un rapporto dialogico e si potesse dire quali sono i problemi del territorio. Invece il protocollo prevede che possa intervenire un solo sindaco, quindi noi ogni volta che ci sono questi incontri istituzionali siamo lì ad ascoltare quello che ci viene detto, ma i problemi da tre mesi dopo il terremoto non sono risolti. Io ho delle frazioni con un ponte chiuso da tre mesi, con delle persone disperate, delle imprese che rischiano di fallire e ancora non si riesce a capire con chi bisogna avere il rapporto istituzionale. Rivendico da sindaco che la Repubblica, articolo 114 della Costituzione, il Presidente della Repubblica è il garante della Costituzione, che i comuni fanno parte della Repubblica, quindi non è immaginabile, è possibile che i rapporti istituzionali siano di questa natura. Lei è il sindaco di?